Andiamo ad inaugurare la Bibliocasetta, una casetta per tutta la cittadinanza di Burgo Roma, tutta la cittadinanza di Verona. La prima Bibliocasetta per bambini, per lo scambio di libri per bambini. Quindi potete portare i vostri libri, lasciarli nella Bibliocasetta, prenderne degli altri e poi riportarli, in modo che appunto si possa andare sempre di più, andare a far sì che la cultura possa aiutare sempre di più l'emancipazione, sempre di più la conoscenza. Questa invece è la Bibliomobile, è un altro gioiellino che mettiamo a disposizione della cittadinanza. I giovedì noi faremo tutta una serie di letture, di laboratori, di iniziative qui al parco, fino a settembre, e quindi nel tardo pomeriggio faremo tutta una serie di iniziative sia con la Bibliomobile e sia poi con la Bibliocasetta.